Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale, buon martedì, spero che abbiate passato un buon weekend lungo, purtroppo è stato piovoso in quasi tutta l'Italia, noi siamo stati a casa tranquilli, abbiamo festeggiato la nonna Rini che ha compiuto gli anni la settimana scorsa ma era da sua sorella quindi non l'abbiamo potuto festeggiare, l'abbiamo festeggiato Santa Caterina perché lei di nome si chiama Caterina ma forse ve l'avevo già detto, io l'ho scoperto in tarda età perché l'hanno sempre chiamata Rinella, invece è Caterina per il suo papà, Rina per mio papà, Rinella per tutto il resto del mondo. Allora, oggi video dei prodotti finiti di tutto il mese di aprile e forse anche di un po' di marzo perché non ho fatto in tempo a farlo, ci sarà tantissima tantissima roba, tantissimo materiale, tanti super super top, qualche floppone che finalmente ho finito, Allora, cosa volevo dirvi ancora, ecco, sto registrando con la schedina della telecamera nuova, spero che sia questo il problema, sia stato questo il problema, altrimenti devo cambiare la videocamera o telecamera, videocamera, forse videocamera. Ma iniziamo subito perché c'è un botto di roba. Allora, finito, finito questo deodorante Conad, con tutti questi deodoranti mi sto trovando davvero bene, sto provando un po' tutte le profumazioni, questo è al talco, note talcate di cotone e fiori bianchi, lo trovo davvero un profumo molto delicato, tipico del borotalco, quindi a chi piace la profumazione del borotalco ve lo consiglio, tra l'altro l'ultima volta che sono andata erano in sconto a meno di 2 euro, 1 euro e 80, 1 euro e 90, quindi ne ho presi 3 o 4 di scorta perché vabbè i deodoranti qui, essendo in 4, ne vanno un sacco ed è veramente, veramente buonissimo. Io vi faccio vedere a random, eh ragazzi, perché non sono stata qua a dividere. Poi, finito anche questo detergente intimo, delicatezza quotidiana, proprio delicato e dedicato anche all'igiene intima dei bambini, perché dai 3 anni in più, senza sless, è testato sotto controllo pediatrico, con olio naturale di riso. Allora, io l'ho comprato per Lucia, ma l'ho utilizzato anch'io, l'ho trovato davvero molto 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 delicato, una schiuma leggerissima ed ha proprio un profumo di bambino. Quando prendete in braccio i neonati, ecco, profumano di quella cosa lì, di buono, di piccolo, ed è veramente buono. Poi, finita questa lacca, per fortuna, della testa nera palette, tenuta normale, ho sbagliato a prenderla io, perché era tenuta normale, ma deve essere stato un residuo del famoso, della famosa scorta che avevo in montagna, tenuta normale, sui miei capelli non teneva nulla, anche perché sono sottili, anche se sono decolorati, che sembrano un po' più corposi, e per fortuna l'ho finita, e basta. Adesso ne ho comprata un'altra, che è fantasmagorica, ma ve la farò vedere presto. Finito il Dove Mineral Touch al bergamotto e aloe vera, questo ha una profumazione meravigliosa, e come sempre non ci soffermiamo tanto, perché i Dove, sapete che sono i miei deodoranti preferiti, anche se quelli di Conad, devo dire, tengono testa. Finito questo shampoo con estratto di ortica e tea tree, anti-forfora, anti-prurito. Allora, è nella doccia, e questo lo usa Paolo. Io ogni tanto, da sostituire con i miei adatti alla decolorazione, uso lo shampoo che c'è in doccia, non è che più di tanto sto lì a scegliere, e devo dire che pulisce molto in profondità, ha un profumo davvero molto molto fresco di ortica, di ortica e di tea tree, ma il tea tree si sente pochissimo. Si sente molto l'ortica, l'ortica fresca, cioè quando la raccogliete per fare poi, non so, gli gnocchi, o le lasagne, o i ravioli, o queste cose. Ecco, ha proprio il profumo dell'ortica fresca raccolta. È buono, non è assolutamente aggressivo, nonostante pulisca molto a fondo, pulisca molto bene, quindi anche questi prodotti io ve li consiglio tutti se avete a disposizione un supermercato Conad. Questo non ci interessa perché me l'ha messo dentro la Lucia, ma non serve. Finito, stiamo cominciando a usare le scorte che avevamo comprato nel primo acquisto Lidl che avevamo fatto in Valtellina. Questo shampoo alla mela verde idratante e nutriente è buono. Sa, di mela verde, non di mela verde dello shampoo a cui eravamo abituati noi dagli anni 70, che puliva in una maniera che i capelli praticamente vi cadevano dalla testa. Comunque è uno shampoo buono, delicato, non ho trovato particolari problematiche, mi sono piaciuti, ho visto andando alla Lidl in questi giorni che sono uscite ancora qualche tipologia di questi prodotti, non li ho comprati perché ne ho davvero tantissimi scorta, ma comunque ci sono. Ho finito invece io questo detergente lenitivo per l'igiene intima contro l'irritazione, prurito e bruciore. Io non ho nessuna di queste problematiche, era però in offerta nella mia farmacia e l'ho comprato. Qui dice special price 7,90€, ma io se non ricordo male l'avevo pagato sui 3,90€ o 4€, non di più. Mi sono trovata davvero molto bene, 400ml di prodotto, e se lo dovessi ritrovare ancora in offerta alla farmacia lo riprenderò perché ha un profumo molto erbaceo, quasi da vecchia farmacia e ha una texture in gel molto molto piacevole, poca schiuma, mi sono trovata benissimo. La marca è Aigagin, istituto Ganassini, e se qualcuno di voi lo conosce io ve lo consiglio perché mi sono trovata davvero molto molto bene. Ah, mi sono messa anche un sacchetto di carta per buttarci le cose, ma le sto mettendo tutte sul tavolo. Via, buttiamole dentro qua perché sennò qua non ci sto. Ok, avete visto il sacchettone di carta. Ho finito questi dischetti purificanti e desfoglianti di natura siberica che avevo preso sul sito di Elisa. Ne ho soltanto buttati 3 perché probabilmente io non ho chiuso bene la scatoletta e si erano asciugati, però vedete, io probabilmente ho chiuso ma senza cliccare e mi si erano asciugati. Mi sono trovata benissimo, è un'esfoliazione molto molto delicata che però faceva il suo lavoro. Quando magari non avete voglia di fare una maschera esfoliante o di passarvi uno scrub o di fare, non so, un siero all'acido, agli acidi vari, io questi li ho veramente utilizzati con molto molto piacere. È una marca natura siberica che mi piace moltissimo. Allora, questo l'ha finito Lucia, sta bombazza di shampoo. Gliel'avevo comprato al Tigotà, è durato un'infinità perché poi anche lei nella doccia li cambia, della Noa, per capelli colorati con mesh, colpi di sole o trattati. Si è trovata bene anche perché comunque il capello di Lucia, fortunatamente, beata lei, non ha nessun tipo di problema. Se non una cute grassa, ma siccome si fa la doccia quotidianamente, anche se i capelli non dovrebbe lavarli tutti i giorni, ma non mi ascolta, si è trovata bene. Finito! Mamma mia, questa crema doccia bio alla malva di Alverde non mi è piaciuta per niente. Mi sto accorgendo che i prodotti bio non mi piacciono. Probabilmente la mia pelle è una pelle commerciale che si è abituata ai prodotti commerciali. Allora, secondo me è un profumo di plastica. Ho fatto una fatica a finirla e non ho neanche tagliato la confezione. Profumo di plastica, di plasticotta. Lo mettevi sulla pelle, ok, è una crema doccia, ma sembrava quasi che non lavasse e ti lasciava questo profumo di plastica sulla pelle. Quindi, ok, preso. Per fortuna di Alverde ho pochissimi prodotti, ma quelli che ho provato non mi piacciono assolutamente. È un problema mio, eh. Però questo non lo ricomprerei. Assolutamente no. Finito invece di Balea, questo gel doccia nutriente con olio di mandorla bio e con estratto di fiori di ciliegio, mi è piaciuto molto un gel molto molto delicato, una bella schiuma, un profumo davvero delizioso. Di ciliegia. La mandorla io non è che la senta tantissimo, ma un profumo intenso di ciliegia. Mi è venuto in mente quei ciupa ciupa rotondi alla ciliegia che ogni tanto ricompro ancora, anche se li utilizzavo più quando ero ragazzina. Ma davvero molto 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 buono. E di questi ne ho parecchi scorta, li sto utilizzando, mi piacciono comunque tutti. Poi per quel costo che hanno vanno benissimo. Ho finito questa. Questa l'ho proprio anche tagliata, tirato fuori, tutto quello che c'era tirato fuori, perché mi è piaciuta un sacco. Questa crema corpo di Perliet, al fiore d'arancio della Conca d'Oro, crema idratante addolcente corpo. Mi è piaciuta perché idratava in una maniera meravigliosa. Era di un colore rosa delizioso, e a me il rosa piace, ma soprattutto mi idratava in profondità, non ungeva e si assorbiva subito. Mi è piaciuta davvero, davvero tantissimo. Questa l'avevo trovata al tiruto. finiti poi queste veline di carta calla, sono sempre le solite, sono sempre buonissime. Questo qua si alzerà. come se l'ho esposto. Sentite un bordello. finito invece questo shampoo alla vaniglia e alla mandorla, questo ha la descrizione in tedesco, quindi mi sa che l'ho comprato quest'estate in Trentino Alto Adige, quando ho trovato il DM. Sono sempre buoni, anche lì dipende, cioè io li alterno magari nei tre shampoo settimanali, uno lo faccio con uno shampoo normale, commerciale, e gli altri due invece li faccio con degli shampoo, che sono adatti al mio colore. Finita questa mousse doccia con olio di Akai, sono buonissime. Di queste ne avevo fatta scorta, quando era andata dal Penny Market, e le avevo trovate ad un'offerta strepitosa, e quindi ne ho prese un bel po'. Questa è anche comoda, perché si può utilizzare anche per radersi, come dice qui, e quindi tutto in uno. Buona, buona, buona. Finito questa crema da rasatura al cocco, che avevamo comprato anche lì una delle prime volte al DM, anche questa è buona. Fa una bella schiuma, corposa, che non, almeno su di me, io non la utilizzo in doccia, quando mi devo radere magari le gambe, o le accelle. La utilizzo fuori, quindi mi rimane veramente bella corposa, bella sofficiosa, come se fosse una panna montata. Il profumo è delizioso. Lucia invece ha utilizzato questo, bagno doccia solido, al profumo di menta e bergamotto, che avevamo comprato di Alverde, lei mi ha detto che si è trovata benissimo, e infatti l'ultima volta che siamo andati, lo abbiamo ricomprato. Ecco, io sui detergenti solidi non ci sono ancora arrivata. ma veniamo alle maschere. Allora, maschera piedi e unghie, nutriente e riparatrice, calze ad azione intensiva, piedi morbidi e curati, della Glicemil, con camomilla bio. Mi è piaciuta, mi ha lasciato i piedi davvero molto molto morbidi, queste non sono quelle che fanno esfoliare la pelle, è solo proprio una maschera nutriente per i piedi. Io ai miei piedini non è che ci do proprio tanto attenzione e sbaglio. Poi, questa maschera della Garnier, e anche questa va bene, è inutile che vi dico che sono buonissime, sono le solite piccoline. Questa invece ovviamente è la fatta Lucia, è una delle maschere con le sue decorazioni per i capelli, come vi dico sempre, lei ci tiene moltissimo ai suoi capelli, e si è fatta anche questa. Queste le abbiamo comprate da Action, mi pare. Finita questa maschera alla siero di vipera, buona, vi devo dire una verità, quando io l'ho messa, a me le visce mi fanno una paura tremenda, anche quelle in occhio che non fanno niente, mi fanno venire i brividi, quindi l'avevo comprata da provare, e l'ho usata, ma proprio per una mia questione sensoriale, di paura, non le ricompro più quelle al siero di vipera, perché mi fanno paura. Questa è, non ve la presento, perché lo sapete, c'è in giro anche una mia foto nel web, e la trovo spaziale e meravigliosa, veramente bella e buona. Anche questa molto molto buona, ha la faccina da agnellino, mi piace, di Balea era una delle edizioni limitate, anche di queste ne ho qualcuna escorta. Sempre maschera capelli di Lucia, comprata da Action, e l'idrabomba, che è sempre una garanzia. Volevo poi farvi vedere, secondo me la maschera top, che ho utilizzato. Questi invece sono i guantini, per le mani, le ho fatte, mi sono piaciute, ma ragazzi, c'è su una botta di prodotto, e non riesco, poi una volta che le tolgo, devo stare lì a spalmare, a spalmare, a spalmare, perché le lascio su un po', ma poi ad un certo punto le tolgo. Ecco, ricchissima di prodotto, ma veramente tanto, 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 e lascia le mani molto molto morbide. Buona. Ho fatto anche questa, che avevo comprato da Sien, mi è piaciuta, ecco, sono forse un po' piccoline come maschere, però, mi era piaciuta, ha un profumo delicato di lavanda, lascia la pelle bella morbida, anche questa buona. Se non ne ho più di maschere, adesso vi dico quello che è, per me, il top, che supera, in questo caso, anche la Garnier. Questa è spaziale, spaziale, e oltretutto, questa la tengo, perché qui dentro, fino a qua, c'è ancora tutto il siero. Questa l'ho fatta, quattro giorni fa, e tutti i giorni, sto mettendo il siero, la mattina e la sera, e ce n'è ancora un sacco. Buonissima, vi lascia la pelle, rimpolpata, nutrita. Questa è una maschera in idrogele, e vi faccio anche vedere, come le ho tenute, perché, prima di buttarle via, è molto comoda, secondo me, dove ho messo l'altra parte, ah no, ecco, non so, mi sa che l'ho buttata via, ah no, eccola qua, perché è divisa in due parti, e lo trovo molto comodo. Questa è la parte superiore, mi è piaciuta davvero tantissimo, queste le avevo comprate in sconto, non ricordo, ma penso probabilmente al Tigotà, o in qualche altro supermercato, ma sono buonissime, e infatti ne ho un po', questa è la parte sopra, e questa è la parte sotto, con lo spazio per la bocca, e qui sopra. Qui ci sono la plastica, da una parte, e la plastica dall'altra, che protegge, io l'ho trovata meravigliosa, contiene polvere d'oro, e olio di argan, è ricchissima, è nutriente, vi lascia la pelle rimpolpata, maschera sublime, veramente ottima, se le trovate, provatele. Poi, finiti i nostri dischetti, in cotone della Sien, che in questo momento, sono i miei preferiti, perché sono belli corposi, riesco a struccarmi gli occhi, addirittura con un dischetto, solo davanti e dietro, e infatti, ne ho finito un altro. buonissimi. Finita la mia mitica, Eutermol, di Aven, io nonostante ami, le mist, coreane, nonostante provi tantissime mist, perché sapete che, sono uno dei prodotti di skin care, che prediligo, trovo comunque che Aven, per la mia pelle, soprattutto in questo momento, di forti sbalzi ormonali, per la menopausa, questa è davvero lenitiva, addolcente, rinfrescante, è meravigliosa, e infatti, sono nata in farmacia, settimana scorsa, c'era un'offerta, e ho ripreso, sta bombazza gigantesca, con, in omaggio, anche il 100 ml, sì, mi pare di sì, questa è da, 300 ml, però, secondo me, ne vale la pena, è davvero buonissima, se avete magari, la pelle irritata, se avete come me, la pelle che ha, della cuperosa, se soffrite di, caldane, della menopausa, questa, ve la portate, nel grembiure di casa, quando fate le faccende, quando avete caldo, ve la spruzzate addosso, cioè, è una meraviglia, buonissima, veramente, ovviamente, poi, mi hanno messo dentro, due, sono uguali, ah no, sono tre, allora, tre, qua c'è dentro ancora un po', però, tre dentifrici, questo, sbiancante, salvia e menta, della, antica erboristeria, che adesso rimetto là, perché vedo che, non è stato spremuto, fino alla fine, azeta, ricerca complet, freschezza intensa, buono, anche questo, e, acqua fresca, è il mio preferito, perché, da piccolina, mi piaceva vedere, quando mettevo sullo spazzolino, i tre colori, comunque, è buono, molto fresco, con eucalipto, eucalipto, ehm, limone e menta, buoni, tutti e tre, non ho i barattolini, ma ho le scarpe, ho finito, ehm, questa, acqua pura, alle rose, di equilibria, io ne ho sentito, decantare, le meraviglie, allora, ehm, sì, è, ehm, un'acqua, di rose, tanto, al profumo, di rose, ma, ehm, devo dire, che, probabilmente, proprio per la mia situazione attuale di donna anziana in menopausa, alcune volte quando la mettevo bruciava, cosa che non mi è successo con quella, per esempio, di un'e, che ho pagato un euro e, e poco più, ehm, ed è tutta naturale, vegana, con, ehm, la rosa da mascena, che ho trovato ad action, e mi piace tantissimo, ecco, questa, mh, io non la ricomprerei, so che tanti la amano, però, vabbè, mi sembra una cosa normalissima, ecco, utilizzata, buona, ogni tanto mi bruciava, quindi non la utilizzavo più, poi, insomma, vabbè, l'è finita, cosa invece che ho amato tantissimo, tantissimo, a un prezzo, mh, veramente, quasi, vergognoso, un euro e, trentanove, ehm, questa, acqua micellare, strucca purifica, idrata, con betaina, di cera di cupra, favolosa, 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 quindi si può fare skin care, anche con dei prodotti, low cost, ma tanto low cost, esatto, ha un profumo, tra l'altro, delicatissimo, e non è senza profumo, ma, molto delicato, molto fresco, mi è piaciuta davvero, davvero tantissimo, e quindi, sicuramente, quando avrò finito le mie scorte, questa è una che ricomprerò, assolutamente, senza problemi, non mi ha dato nessun tipo di problema, strucca bene gli occhi, certo, io, la passo, ehm, magari solo sugli occhi, se non ho il bifasico degli occhi, o la passo per rinfrescarmi alla sera, e poi faccio, comunque, la doppia detersione, mi piace, mi è piaciuta tantissimo, quindi questa io ve la consiglio, sento di consigliarvela, ragazzi, l'ho finita, sono stata brava, ne? Sono stata proprio brava, l'ho finita, queste erano le famose, ehm, floppazze che avevo comprato, sempre per mio errore, perché ovviamente il profumo del tiramisù, come crema corpo, crema anticellulite, ehm, non mi piace, non mi è piaciuta, non la ricomprerò, adesso sto, devo iniziare l'olio corpo, spero che, ehm, mi piaccia di più, anche se il profumo al tiramisù, gli ho fatto una grande stupidata, io, però vabbè, l'ho finita, ho tagliato, ho tirato fuori tutto, ehm, una crema che non mi si spalmava, non si assorbiva, una scia pazzesca, la dovevo mettere sola la sera, perché sennò, ora che spalmo, la mattina, sono lì ancora e, dovrei essere in ufficio, quindi non mi è piaciuta, finito poi, questo, ehm, tonico per pelli grasse, della, eh, Ziaia, ve l'avevo già promosso, e ve l'avevo già raccontato un sacco di volte, ottimo, ehm, sto utilizzando altri prodotti, e sono tutti veramente, veramente ottimi, 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 un tonico, che, sì, ha un profumo, ma, una cosa, eh, quasi impercettibile, mi aiutava, comunque, a tenere a vada, la, diciamo, la produzione di sebo, durante la giornata, questo lo utilizzavo soltanto alla mattina, proprio, come, per integrare poi, eh, tutta la base trucco, che, che faccio giornalmente, mi è piaciuto davvero, davvero tantissimo, buono, 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 ho finito, eh, maschera, maschera, di Iepoda, mi è piaciuta, eh, il fatto è che, ragazzi, non finiva più, quindi, sì, la potrei ricomprare, però, non finiva più, comunque, una maschera davvero ottima, illuminante, sì, tantissimo, eh, ci deve essere anche, un video che ho fatto, di skin care, dove, mh, si vede l'effetto, di questa maschera, mi è, mi è piaciuta, proprio tanto, buona, ho finito, no, questo l'hanno finito, i ragazzi, eh, di Nivea, Pure Invisible, 48 ore di protezione, sì, eh, quando passavano, non puzzavano, vuol dire che, comunque, ha fatto il suo effetto, ma quanto so scema, eh, finita questa essence, di Codalie, esfoliante, eh, buonissima, concentrato, eh, con acido glicolico, buona, 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 eh, mi piace tantissimo Codalie, come brand, e quando è in sconto, eh, compro spesso dei prodotti di Codalie, perché mi piacciono, mi piacciono tantissimo, davvero, questa ve la consiglio, anche perché, eh, 150 ml, vi durano davvero, sei mesi, eh, buono, 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 questo non aveva nessun tipo di profumo, esatto, non ha nessun tipo di profumo, eh, è buona, è buona, è buona, sapete che io per le essence ho un debole, ho finito poi questo, eh, struccante bifasico della Sien, e mi è piaciuto, mi è piaciuto, eh, ha fatto il suo dovere, ha tolto il trucco, io, eh, come sempre vi ricordo che non uso trucco waterproof, non ho nulla di waterproof, eh, però, mi è piaciuto davvero tanto, e, eh, lo ricomprerei assolutamente sì, sì, perché è proprio un prezzo sciocco, e fa il suo lavoro, è anche vegano, quindi, direi perfetto, poi, eh, cosa ho finito ancora, sono quasi arrivata alla fine, questo no, ho finito anche questo contornocchi di, eh, Ziaia, come vi dicevo, è una marca che sto amando tantissimo, un contornocchi davvero, davvero leggero, con una texture in gel, che pialla, veramente, le borse, quando le avete, io fortunatamente, le ho pochissime volte, eh, rimpolpa e lifta, buonissimo, 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 in vista dell'estate, potrebbe essere un ottimo contorno occhi, eh, molto molto leggero, ma, che fa il suo lavoro, ad un prezzo davvero piccolino, questo è proprio buono, poi, ho, avevo da provare, che mi aveva dato la mia rappresentante di Yves Rocher, eh, due, mh, sieri, che ho utilizzato, con molto piacere, mi sono piaciuti davvero tantissimo, uno è il filler vegetal, e altro, e l'altro è elixir botaniche, 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 non lo so, comunque, tutti e due, mi sono piaciuti talmente tanto, che ho comprato la full size, Questi li utilizzavo alla mattina, sono molto leggeri, ma, ehm, molto molto belli, quindi, se avete occasione di provarli, provateli, poi, che cosa ho finito ancora? Ah, questa mi è piaciuta un botto, eh, crema, mh, viso, con SPF 30, della Yves Rocher, questa, mh, me l'ha mandata, nel suo pacco regalo, la Stefi, se non erro, Stefi, confermami, mi è piaciuta, da morire, e questa, eh, la vorrei comprare, magari non per l'estate, perché un SPF 30 potrebbe essere, per me, un pochino basso, ma sicuramente, una crema tutto in uno, ehm, quindi crema viso, e, eh, SPF, da utilizzare, eh, in inverno, ma, veramente, ottima, e tra l'altro, con un profumo, oh, delizioso, il bello della diretta, mi sono spalmata la crema, vedete, è corposa, sì, si spalma subito, ma, mi lascia una pelle, meravigliosa, mi è piaciuta proprio, proprio tanto, e questa sicuramente la compro, sì, poi, eh, tre robine di trucchi, proprio veloce, veloce, ho finito, eh, questo matitone della Kiko, per le labbra, che è stato un mio must have, per tantissimo tempo, cioè, proprio finito, sono arrivata alla fine, adesso mi gratta, sulle labbra, perché c'è la plastica, in questo colore che io, vediamo, se riesco a farvelo vedere, ma, ne è rimasto proprio, vedete, pochissimo, è uno dei miei, mh, prodotti preferiti, non c'è più in commercio, perché è uscito tantissimi anni fa, e, per qualche mese l'ho tenuto lì, perché non volevo finirlo, ho cercato qualche imitazione, al momento non ne ho trovato, ma è proprio, un balsamo labbra colorato, meraviglioso, eh, che potete anche stratificare, vi lascia le labbra morbidissime, e, non lo, non lo fanno più, ne hanno fatti altri, ma non sono come lui, eh, questa formulazione era veramente, spettacolare, sono alla ricerca, quindi, di matite labbra, matitoni labbra, lipstick in matita, che siano così, se voi ne avete qualcuno, da consigliarmi, fatemelo sapere, poi, ho finito, sta suonando il telefono, ma non rispondo, ho finito, questo, ho finito, e ho, anche se non è finito, lo butto, perché non mi piace, questo, eh, della, Bella Oggi, non mi piace, principalmente, perché ha sto, bombolone, di, scovolino, e non fanno per me, mi sporco tutta, ci metto un sacco di tempo, a, a sistemarmi, e, e poi, comunque, adesso è seccato, era venduto, eh, in combo, l'ho preso in offerta, l'anno scorso, che me l'ha rifilato, me l'ha rifilato, il commesso, del Tigotà, ad un prezzo imbattibile, eh, con un altro, che ha, il cappuccio, il tappo giallo, che però, ha uno scovolino, molto più corvilineo, molto più sottile, che, chiaramente, preferisco, quindi, questo, lo, lo butto, ed, ho finito, eh, questo, questo, favoloso, fondotinta, che mi piace, da morire, è il mio preferito, ce l'ho anche in full size, però, finché, ho, le, mini size, utilizzo, utilizzo queste, e, della Lancome, ultra, aspettate, teen, teen, idol, ultra wear, io ho la colorazione, 025, mi piace tantissimo, e, adesso, inizierò, quella, la full size, il, il mio, flaconcione, gigantesco, ebbene, eh, dopo questa lunga, chiacchierata, abbiamo finito, tutti i prodotti, fino al 2 maggio, io vi ringrazio, vi saluto, vorrevo ringraziarvi, soprattutto, per i commenti, bellissimi, alcuni, molto personali, che mi hanno fatto, commuovere, nel video, precedente, che ho fatto, quello dei profumi, dove c'è stato, un po', un cammino, di ricordi, un cammino, emozionale, che, ho condiviso, con voi, niente, eh, vi ringrazio, vi ringrazio davvero, tanto, perché sono contenta, di avere, degli amici, nella mia community, eh, come voi, quindi, grazie davvero, di cuore, e, eh, dopo, questi ringraziamenti, io vi saluto, e vi do appuntamento, ad un prossimo video, mi sembra di essere, un'annunciatrice, televisiva, vi abbraccio, vi mando, tanti baci, e vi auguro, buon proseguimento, di giornata, e di settimana, alla prossima, ciao ciao!